A me fa da siciliana sempre molto piacere e anche mi stupisce la verità che un comune così del nord e neanche tanto grande si interessi così da vicino anche ai problemi della Sicilia, vero è che ormai non sono più i problemi della Sicilia, forse devo capire che la consapevolezza di sapere che ormai visto che soldi in Sicilia non ce ne sono più, diciamo la mafia e anche l'Andrangheta come abbiamo grandi prove, investe qui da voi, quindi forse questo mantenimento di questa iniziativa dipende anche dal fatto che evidentemente vi rendete conto sempre di più che non è più un problema siciliano.